Buonasera a tutti, buon pomeriggio, in questo momento abbiamo appreso la notizia che si attendeva con tanta ansia durante la riunione del COC, il centro operativo comunale del comune di Altamura che abbiamo seguito con grande apprezzione, è arrivata la notizia importantissima, si è riusciti a sbloccare una situazione davvero pesantissima che stava condizionando tantissimo non solo gli umori di tutti gli operatori concessionari di posteggio del mercato del sabato ad Altamura ma anche delle associazioni di categoria, voglio ricordare che sabato c'è stata una grande manifestazione al comune di Altamura, una manifestazione spontanea di operatori durante la quale è stato assunto un impegno, cioè quello che oggi all'interno della riunione del COC di Altamura che si è svolta sarebbe stata assunta la decisione in merito al mercato settimanale. Ebbene, con piacere vi comunico che il mercato settimanale di sabato ad Altamura non solo si svolgerà nella giornata festiva di sabato 1 maggio 2021 ma sarà di nuovo unitario. Quindi voi ricordate, ricordo sommariamente quello che è accaduto ad Altamura, ad ottobre, novembre, dicembre praticamente il mercato è rimasto fermo completamente, mercato sospeso, poi è ripreso a gennaio in forma quindicinale, quindi con l'alternanza delle due pari e dispari, due blocchi insomma di numerazioni, quindi operatori che di fatto si sono visti privare anche del legittimo diritto al lavoro settimanale, riprende il mercato il primo maggio tutto unitario, se si possa dire. Quindi grande soddisfazione presso la sede casambulanti dove abbiamo seguito tutte le operazioni, grandissimo risultato storico perché non solo ad Altamura il mercato nelle giornate festive abitualmente non si svolgeva, ricordate che fu un successo quella nostra iniziativa quando si riuscì a far svolgere un mercato festivo, quindi non solo il primo maggio che noi abbiamo sancito essere la giornata della difesa del diritto di lavorare, del diritto di lavorare per chi il lavoro già ce l'ha, quindi una grandissima rivoluzione storica, culturale, questo è l'annuncio che facciamo con grandissimo piacere, ci siamo impegnati con l'amministrazione comunale anche ad un protocollo d'intesa che è un protocollo d'impegno, ecco il termine giusto che sta partendo perché avevo già predisposto per altri comuni e sta partendo il nostro protocollo d'intesa ovviamente allargato a tutti, dicevo che è già stato comunque condiviso in altri comuni anche da parte delle altre associazioni di categoria, quindi questo è un buon auspicio sabato primo maggio mercato ad Altamura con tutti gli operatori commerciali insomma con tutta la categoria unita è stata una bella battaglia, voglio ricordare in ultima analisi che proprio oggi mentre la decisione del COC veniva comunicata si stava svolgendo ad Altamura un ulteriore sit-in pacifico con tantissimi operatori che sono partiti dalla città di Andria questa è stata un'altra mobilitazione messa in moto da Casambulanti, quindi un grande risultato un grande impegno e lasciatemelo dire una grande enorme soddisfazione. Buon lavoro a tutti, ci vediamo il primo maggio ad Altamura. Ciao!